Creiamo un ecosistema per le start-up, una richiesta fatta ai nostri politici che devono necessariamente fare qualcosa perché sia possibile riuscire a far nascere e soprattutto a far crescere e sviluppare le start-up. Ci racconta quindi adesso l'ecosistema ideale per le start-up. Grazie, direi che esistono quattro linee di azione o quattro pilastri che servono a costruire un ecosistema start-up. Sappiamo che nel mondo le grandi città, ma non solo le più grandi, comunque molti paesi si sono un po' messi a gara per creare questo ecosistema perché si è scoperto che le start-up servono non solo perché producono economia ma soprattutto perché lanciano un messaggio sull'innovazione, sulla necessità di cambiare che poi in qualche modo contamina e modifica anche il comportamento delle grandi imprese. Quindi come fare in modo che la proprio territorio abbia un sistema start-up, un ecosistema start-up che funzioni? I pilastri sono quattro. Il primo pilastro è quello della sensibilizzazione della cultura imprenditoriale. Molte città, molti paesi, molti ambienti c'è ancora un po' l'idea che fare l'imprenditore sia un po' un ripiego quando non si è trovato un posto di lavoro in azienda. Ecco, questa cosa che è chiaramente assolutamente antica e che non caratterizza certo più i paesi più innovativi va in qualche modo un po' creata. Quindi eventi, questo di start-up dove siamo ospitati adesso è uno di questi, le università devono muoversi, le famiglie devono anche imparare come dare ai propri figli un messaggio di incoraggiamento a prendersi dei rischi di tipo imprenditoriale, a investire e in qualche modo a creare il proprio lavoro. Convegni, magazine, eventi, sono tutti strumenti utili da questo punto di vista. Il secondo pilastro è successivo ed è quello di avere delle occasioni, delle strutture che possano ospitare team di giovani che abbiano un'idea e che si siano convinti di volerla realizzare. Si chiamano incubatori, a volte offrono dei programmi di accelerazione, offrono anche le prime, diciamo, risorse finanziarie per poter partire e per potersi dedicare a tempo pieno alla propria idea. Città come Roma, che erano un po' indietro su questa corsa all'ecosistema start-up, di fatto hanno fatto dei grandi passi avanti, abbiamo dei interessanti programmi e degli ambiti come può essere l'UISENLAB, la situazione termini, o PICAMPUS all'EUR, dove queste start-up possono arrivare se evidentemente hanno già superato una prima selezione e quindi sono qualcosa di più di una semplice e buona idea. La terzo pilastro è quello dei finanziamenti veri e propri, finanziamenti veri e propri intendo dire non quei soldi che servono a sopravvivere nei primi mesi o nei primi anni, ma qualcosa che serva a creare realmente un'azienda, perché questo avvenga, occorrono i fondi di venture capital, occorrono qualcosa di più dei business angels e qui in Italia siamo ancora un po' indietro, perché i grandi flussi di capitale di rischio in genere non sono arrivati da noi, ma arriveranno sicuramente sempre più frequentemente man mano che le principali pilastri precedenti saranno stati soddisfatti, quindi ci saranno delle buoni team, delle buone start-up che saranno in fase di accelerazione o di ingresso sul mercato. Il quarto e ultimo pilastro è quello dello sbocco sul mercato, dell'acquisizione di un mercato, perché poi la start-up può essere stata finanziata, ma non è detto che poi riesca veramente imporsi sul mercato, perché questo avvenga credo che sia molto importante una collaborazione con le grandi imprese, grandi imprese che possono acquistare le start-up, la famosa exit che molte start-up anelano, ma che possono anche avere un ruolo all'inizio del percorso, cioè offrendo agli imprenditori dei problemi, delle challenge, delle motivazioni che potrebbero indurre i team a trovare o a cercare delle soluzioni. Chi vuole fare una start-up talvolta non ha idea di quali siano i veri problemi del mercato, i veri problemi delle aziende, conoscerli potrebbe aiutarli a creare qualcosa che sia effettivamente utile. Per ricordare i quattro pilastri ho immaginato di parlare di quattro S, la prima S è la sensibilizzazione, la seconda S sono le strutture e i servizi di accompagnamento, la terza S sono i soldi e la quarta S di cui parlavo adesso sono lo sbocco sul mercato, quindi quattro S che bisogna tenere in considerazione che devono tutte e quattro essere attive e se funzionano generano un bellissimo volano positivo perché anche l'ultima S, quello dello sbocco sul mercato, se crea degli esperienze di successo diventa di nuovo un elemento di sensibilizzazione, un modello al quale i giovani possono ispirarsi e quindi riprendere questo percorso virtuoso di cui ho appena fatto cenno. Grazie.